Rapino al vescovo emerito della diocesi di Andria, Monsignor Raffaele Calabro. Erano circa le 6 di questa mattina quando due malviventi incappucciati hanno fatto irruzione nella sua abitazione, portando via soldi e qualche oggetto prezioso. In corso naturalmente le indagini per risalire ai due malviventi. Ora fortunatamente Monsignor Calabro sta bene. Brutta avventura questa mattina per il vescovo emerito della diocesi di Andria, Monsignor Raffaele Calabro, che ha subito una rapina in casa, fortunatamente senza gravi conseguenze. Erano circa le 6 del mattino quando due giovani incappucciati hanno forzato la porta d'ingresso della sua abitazione ed hanno consumato il furto. I due malviventi hanno prima immobilizzato Monsignor Calabro, intimandogli di consegnare loro soldi e monili preziosi. Per fortuna nessuna aggressione fisica è stata perpetrata ai danni del vescovo emerito, per il quale infatti non si è reso necessario effettuare alcun ricovero. Lo stesso Monsignor Calabro non appena i due malviventi hanno abbandonato l'abitazione ha prontamente allertato i carabinieri che giunti sul posto si sono anche accertati delle sue condizioni di salute. Nell'abitazione è giunta anche la scientifica per i rilievi del caso. I carabinieri intanto indagano per risalire all'identità dei due malviventi, in corso di quantificazione anche l'entità del danno economico. Ora Monsignor Raffaele Calabro sta bene, per lui solo tanto spavento è una brutta vicenda da dimenticare al più presto. Intanto appena saputo dell'accaduto, il vescovo della diocesi di Andria, Monsignor Luigi Manzi, insieme al suo segretario Don Nicola De Ruvo, hanno voluto recarsi personalmente da Monsignor Calabro per dimostrargli vicinanza e per dargli tutto il supporto necessario in questo momento non facile. Anche Don Gianni Massaro questa mattina ha fatto visita a Monsignor Raffaele Calabro nella sua abitazione, così come tanti altri sacerdoti della diocesi, non hanno fatto mancare sostegno, appoggio e vicinanza al vescovo emerito della diocesi di Andria.